Ciao qui è Gio, di Soluzione Attrazione nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci avete inviato. La domanda è, cos'è il frame e perché è così importante nella soluzione? Allora ragazzi, premessa questa domanda, come prima cosa, e l'ho detto nella risposta a varie domande, però lo ripeto perché è una cosa che vi deve entrare in testa, io ho creato tutta una serie di contenuti gratuiti in quest'ultimo periodo e per di più mi dovete dare atto che in Italia sono la persona che ne ha creati più in abbondanza. Nel tempo minore anche, non lo dico per vantarmi, è un fatto, semplicemente. Ora, io vi rispondo veramente alle domande, però quello che mi piacerebbe da voi, ma più che altro per voi, è che in realtà voi aveste la dedizione e l'interesse di andare a cercare quelli che sono i video all'interno del canale, dove spiego cose di questo tipo. Per quale motivo questo? Perché, signori, l'approccio a seduzione, l'approccio a freddo, il rimorchio, chiamatelo un po' come vi pare, è un qualcosa che non è adatto ai pigri. E questo è semplicemente la realtà. Qua significa questo? Significa che se per voi lo sforzo di guardare un video al giorno, che è quello che in questo momento vi stiamo proponendo a livello di calendarizzazione, è troppo elevato, o di andare a cercare il video relativo alla cosa che vi interessa è troppo elevato, e capite bene che questo la dice lunga in questo momento su quello che è il vostro mindset, la vostra abnegazione, la vostra etica del lavoro, e quindi se questa è un'area della vita importante per voi, questa, o meglio non questa cosa, queste cose, sono cose che voi dovete modificare, modificare in meglio. Detto questo, ti posso rispondere in maniera generale perché ovviamente entro in dettagli specifici e con un sacco di esempi in tecniche di seduzione avanzata, e chi è interessato vi lascio il link in descrizione, e devo rispettare quelli che sono i miei clienti paganti e dargli credito per aver pagato fondamentalmente. Però, in ogni caso, il frame non è nient'altro che la subcomunicazione nascosta, o comunicazione nascosta, per così dire, che tu imponi con quello che dici e con il modo in cui ti comporti. Cosa significa? Facciamo un esempio fra tutti. Quando la ragazza fondamentalmente ti dice non ti bacio, piuttosto che non sono una ragazza di quel tipo, quello che è, eccetera, eccetera, sta imponendo un frame, cioè sta imponendo che lei a scegliere, che lei a decidere le tempistiche e compagnia cantante. Quindi, quello che noi vogliamo fare, visto che è molto più semplice imporre un frame sin da subito, che ribaltarlo, è essere noi i primi a imporre i frame e usare i loro stessi frame contro di loro, ok? Perché le donne sono molto più brave nell'utilizzo di questa tecnica, in maniera inconscia. Mettiamola così. Questo è sicuramente il primo step, cioè imparare a imporre un frame. Il secondo è quello, ovviamente, di imparare a ribaltarlo, nel senso che quando una ragazza imporre un frame, voi dovete essere capaci di ribaltarlo, perché altrimenti lei è alla guida fondamentalmente. E questo non significa che se voi non siete capaci di ribaltarlo, non potete arrivare a fare il sesso, a fare sesso meglio con la ragazza, ma quello che accadrà è che lo farete, se lo farete, molto più tardi e alle sue condizioni. O, in ogni caso, lei terrà le redini fondamentalmente di quella che è interazione, potenzialmente anche di quella che è interazione in seguito. Ma, al di là di questo, un'altra cosa che il frame fa, e questo è ancora più importante, è, in realtà, queste due cose di cui vi sto parlando, cioè quella di cui vi ho parlato prima e quella di cui vi sto parlando adesso, sono praticamente gemelle, ok? Un'altra cosa che il frame fa è dettare, a livello di subcomunicazione, di comunicazione nascosta, chi è la persona di maggior valore all'interno dell'interazione. E quindi, vi ho detto più volte, il motivo per cui le donne sono interessate a uomini di valore maggiore a loro, o almeno che percepiscono tale, e quindi è fondamentale che voi impariate l'utilizzo di questa tecnica, non si scappa. Quindi, chi è interessato, vi lascio il link a tecniche di soluzioni avanzate in descrizione. Stop! Non scappare subito! Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti, il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro, e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.